Non ci siamo dette niente perché in questi momenti non c'è molto da dire ovviamente perché la sconfitta brucia, brucia ancora, ma dobbiamo comunque essere brave a fare lo switch e pensare a questa finale terzo quarto posto e continuare poi nel nostro percorso. Lei è veramente un'ottima giocatrice, ripeto è stato, penso che sia l'innesto giusto, il momento giusto per la Turchia, quindi che dire, ha messo il turbo, complimenti, brucia comunque sia la sconfitta che le sue botte sicuramente. Io ci ho creduto, penso tutti ci abbiano creduto fino all'ultimo, poi nel momento dove dovevamo veramente spingere abbiamo commesso qualche errore di troppo e loro hanno accelerato, peccato perché è mancato proprio questo step. Più che tecnico, penso magari anche un po' caratteriale, poi sicuramente il nostro percorso continua, noi dobbiamo cercare di migliorarci giorno per giorno e pensare comunque poi più avanti a questa partita, analizzarla meglio e vedere cosa è stato fatto bene, cosa è stato fatto male e migliorare poi sotto questi aspetti. Grazie. 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 Grazie.